E' arrivata ad Arezzo la 100 ore di Modena, rally storico con oltre 107 partenti che riesce a coniugare su splendidi percorsi, turismo di lusso e competizione. La gara è organizzata da un gruppo di appassionati professionisti della scuderia tricolore di Canossa Events. 107 le vetture iscritte, 14 le nazioni rappresentate dai 214 partecipanti provenienti da tutto il mondo che hanno potuto apprezzare la bellezza di Piazza Grande ad Arezzo. Voglio ringraziare la città di Arezzo per averci ospitati in questa bellissima piazza e credo che l'accoppiata di piazze medievali così belle, opere d'arte a quattro ruote come queste, siano davvero un'accoppiata vincente. Perché i nostri partecipanti che vengono da 22 paesi, abbiamo gente che arriva da Hong Kong, dall'America, dal Sud America, da tutta Europa, ha la possibilità di vedere le piazze, i posti, le città più belle d'Italia e posti come Arezzo hanno l'occasione per farsi vedere da gente che viene davvero da tutto il mondo e che è anche opinion leader a casa sua e quindi certamente può essere di grande stimolo per quello che tutte le città in Italia cercano, che è il turismo, che è il nostro petrolio.